Anche per il rapporto che avevo il Presidente, devo dire che io l'ho conosciuto da vicino, una persona geniale, generosa e assolutamente di una creatività unica, quindi me lo ricordo dal Consiglio dei Ministri che ho continuato a mantenere rapporti e se ne va un pezzo di generale. Geniale, altruista, generosa e soprattutto ha una grande voglia di vivere, il pessimismo per lui non esisteva e devo dire che io ho un bel ricordo e devo anche dire che lui ha sempre dimostrato una grande vicinanza al vento e questo io lo voglio riconoscere perché c'è stato con i passanti, con il Mose, con le alluvioni e lui è sempre stato presente. Noi abbiamo avuto 10.040 persone alluvionate, è tornato poi con l'acqua grande nel 2019, mi ha chiamato anche durante il Covid, quindi assolutamente ha sempre espresso queste sue vicinanze.